One, two, three... ...che i cannoni hanno fatto il pen. Hanno ucciso l'omorario, chi si è scavano, non si sa. Forse è quelli della mala, forse è la pubblicità. Hanno ucciso l'omorario, non si stiano anche perché avrà fatto qualche sgamo a qualche industria di caffè. Industria di caffè, industria di caffè. Industria di caffè. Alla centrale della polizia, il commissario dice che volete che sia. Quello successo non ci fermerà, il crimine non vincerà. Ma le disperate, c'è il patico ormai. Nessuno esce di casa, nessuno vuoi in guai. E' la chiaveglia da casa anche tu. Adesso chi ci crede? Hanno ucciso l'omorario, chi si è scavano, non si sa. Forse è quelli della mala, forse è la pubblicità. Hanno ucciso l'omorario, non si stiano anche perché avrà fatto qualche sgamo a qualche industria di caffè. E' la chiaveglia da casa anche tu. 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 Pesco su militarizza, per quanto per noi, il ragazzo di ritrovato per mi sono Gli unice eroi. Invece lui è simile, lui è bella nascratta. Tanto a noi tu dev'ermiverà… Ah, non ci sono morato, chissà il calo non ci sarà, forse quelli della mala, forse la pubblicità. Ah, non ci sono morato, non ci stanno perché, ha trampato qualche strada, qualche busta di caffè. Ah, non ci sono morato, non ci stanno perché, ha trampato qualche strada, qualche busta di caffè. Ah, non ci sono morato, non ci stanno perché, ha trampato qualche strada, qualche busta di caffè.